Licurgo, il legislatore spartano. Un velo di leggenda. La figura di Licurgo, legislatore di Sparta, è avvolta da un alone di mistero e leggenda. Le informazioni sulla sua vita sono frammentari e spesso discordanti, rendendo difficile separare la realtà dalla mitologia. La tradizione lo colloca tra il IX e l'VIII secolo anno corrente, ma la sua datazione precisa e incerta. Plutarco, nella sua vita di Licurgo, fornisce una delle biografie più complite, seppur ricca di aneddoti leggendari. L'ascesa al potere e le riforme. Secondo la tradizione, Licurgo era un membro della famiglia reale spartana. Assunse la reggenza durante la minore età del nipote, Carilao. In questo periodo, intraprese una serie di riforme radicali volte a trasformare Sparta in una potenza militare e sociale unica, nel mondo greco. La Retra e la Grande Retra. Le riforme di Licurgo si basavano su due documenti, la Retra e la Grande Retra. La Retra, attribuita ad Apollo, stabiliva le basi dell'ordinamento politico spartano, mentre la Grande Retra definiva l'organizzazione sociale e militare. La Goghè, l'educazione spartana. Un elemento centrale del sistema spartano era la Goghè, un rigido sistema educativo che mirava a forgiare cittadini soldati disciplinati e forti. I bambini, fin dalla tenera età, venivano sottoposti a un duro addestramento fisico e militare, imparando a vivere in modo austero e a obbedire alle leggi. L'eunomia è là. Licurgo pose l'accento sull'eunomia, il buon governo, e sulla, la coesione sociale. La sua idea di società era basata sull'uguaglianza tra i cittadini, esclusi gli schiavi, e sulla subordinazione dell'individuo al bene comune. L'eredità di Licurgo. Le riforme di Licurgo ebbero un impatto profondo sulla storia di Sparta. La città-stato divenne una potenza militare dominante in Grecia, grazie alla sua insuperabile forza bellica e alla sua ferrea disciplina. L'influenza di Licurgo si estesse anche alla sfera sociale e culturale, modellando un etos spartano di austerità, frugalità e dedizione alla patria. Le critiche e le controversie. Nonostante la sua fama, Licurgo non è stato immune da critiche. Alcune figure storiche, come Platone e Aristotele, contestarono alcuni aspetti del suo sistema, considerandolo troppo rigido e repressivo. In tempi recenti, la storiografia ha messo in discussione l'attendibilità di alcune fonti antiche, sollevando dubbi sulla storicità di alcuni eventi e sulla reale portata delle sue riforme. Conclusione. Licurgo rimane una figura enigmatica, ma la sua influenza sulla storia di Sparta e della Grecia è innegabile. Le sue riforme hanno forgiato una società unica nel suo genere, capace di raggiungere una potenza militare senza precedenti. Il suo lascito, pur controverso, continua ad affascinare e ad alimentare il dibattito storico e filosofico. Oltre a Plutarco, altre fonti importanti per la vita di Licurgo sono, Erodoto, storie. Senofonte, Costituzione degli Spartani. Pausania, descrizione della Grecia. Velleio Patercolo, storia romana. Per approfondire la figura di Licurgo e la società spartana, si possono consultare i seguenti testi. Licurgo e la società spartana di Victor Erenberg. Sparta, storia di una città-stato di Paul Cartledge. Il mondo di Sparta di Donald Kagan. La Grecia antica è di Moses Finley. Infine, è interessante notare come la figura di Licurgo abbia ispirato pensatori e politici nel corso dei secoli. Machiavelli, per esempio, lo considerava un modello di legislatore ideale.